I pianoforti, sapete, sono creature domestiche. Hanno bisogno di un tetto e non si possono sporgere dal balcone. Hanno partecipato poco alle suonate dalle pertinenze urbane di questi ultimi due mesi. Pertanto si era tutti molto più sensibili alle note. Pertanto si era un tetto e non si può sporgere dal balcone. Pertanto si era un tetto e non si può sporgere dal balcone.